Emiliano Dejana, il sindaco che scrive. Questa è la tua prima opera? Questa non è un'opera, questa è una pazzia. E cioè? C'è un libro comico per parlare di cose serie. Forse è la prima volta che uno del Partito Democratico si azzarda così a ironizzare sul Partito. Posso anticipare, sarà la prima e anche l'ultima. Ancora sulle reazioni, come mai? Perché prima e l'ultima? Perché non siamo tanto disposti a prenderci per i saleri. Questa opera, l'idea quando ti è venuta? Quest'opera non sarebbe nata senza Facebook. Ho provato a scrivere alcuni dei capitoli che li ho pubblicati hanno avuto un discreto successo di pubblico e allora ho pensato che la saga potesse andare a buon fine. Il titolo Bar Sport Democratico cosa significa? Perché mi volevo scontrare con un vostro sacco di humorismo che Stefano Guedi che negli anni 70 aveva scritto Bar Sport. Ci ho aggiunto Democratico perché all'interno di questo bar si popola di varie umanità riferite al PD. Il Partito Democratico, tu che lo vivi all'interno, secondo te come reagirà alle tue frecciate? Assolutamente bene, siamo gente di mondo, però lo dico anche come ha scritto Massimo D'Alema nella prefazione apocrifa, il PD sopraviverà a me stesso. Massimo, quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro? Due anni. E sappiamo anche che in cantiere c'è dell'altro. Sì, io ho già scritto tre libri, però ci sono tutti nel cassetto. Questo è uscito perché ho trovato un editore abbastanza folle che ha deciso di pubblicarlo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.